ciao ragazzi ciao a tutti allora video velocissimo è arrivato questo pacco da amazon visto così sembra un pacco di aliexpress ma io non sono capace di ordinare da aliexpress anzi qualcuno dice che anche una fortuna perché se no poi diventa una droga no allora ordinato da amazon ho aspettato un mese questo pacco ormai lo davo per disperso e niente ho preso semplicemente due bustine di queste letterine qua perché volevo fare aspettate che magari si vede meglio che c'è anche la lucina che mi aiuta perché praticamente volevo fare dei braccialetti dei miei cuginetti maschi che siccome per maschio non ho mai niente allora ho ordinato queste letterine qua così magari gli posso scrivere il nome faccio il braccialetto con scritto il nome almeno gli faccio un pensierino e finalmente sono arrivate spero che ci sia tutto l'alfabeto perché vedere così vabbè comunque per il prezzo che avevano le ho prese tutte e due le ho pagate 5 euro e qualcosa non mi ricordo comunque meno di 6 euro tutte e due insieme e niente io spero che vi piacciono e cosa dirvi a volevo dare un messaggio già che ci sono a quelle persone che ti chiedono siccome avevo già fatto un video a riguardo però lo vorrei ripetere magari le persone nuove che non lo sanno no le persone che ti dicono mi sono iscritta al tuo canale per favore ricambi io non ho niente in contrario a ricambiare perché soprattutto se è un canale piccolino come il mio no dobbiamo cercare tra di noi comunque di sostenerci il problema qual è il problema è che se tu vedi che io mi sono iscritto al tuo canale poi dopo ti togli e mi prendi in giro no e a me le prese in giro mi fanno abbastanza imbestialire quindi se dovete prendere in giro non chiedetemi neanche di iscrivermi al vostro canale perché magari tra l'altro non è neanche un canale che io normalmente seguirei però per cortesia comunque mi iscrivo al canale allora se voi non lo volete seguire il mio canale non iscrivetevi però non ditemi neanche di iscrivervi al vostro tutto qua niente con questa piccola parentesi vi mando un bacio e ci vediamo ad un prossimo video ciao ciao